Parliamo di arti marziali con Gianluca Colonnese qui a Rimi Wellness. Gianluca parlaci della tua accademia, il Tempio delle Arti Marziali a Roma. Dove si trova e soprattutto qual è la filosofia che nasce e che c'è dietro questa Accademia delle Arti Marziali? Sì, il Tempio delle Arti Marziali è nato nel 2001 da un'idea del maestro Alessandro Colonnese che è mio padre proprio per creare un'accademia di sole e arti marziali nel territorio romano. Dopo 4-5 anni sono subentrato anche io in società con mio padre e da lì è nato il vero e proprio fulcro dell'Accademia perché abbiamo unito due tradizioni, quella cinese e quella tailandese. Mio padre si occupa di tutto quello che è il settore Kung Fu tradizionale e io mi occupo di tutto quello che è la Muay Thai, il settore Muay Thai che adesso come adesso nel territorio laziale sta prendendo molto piede anche perché abbiamo creato un gruppo, un gruppo di istruttori di sola Muay Thai che sta comunque piano piano formando nuove scuole nel territorio romano. Niente, il Tempio delle Arti Marziali è una struttura di 500 metri quadrati dedicata completamente alle arti marziali. 32 sacchi, ring regolamentare, 200 metri quadrati di tatami, un'Accademia veramente specializzata negli sport da combattimento e nelle arti marziali. Qui da noi si praticano oltre a ovviamente il Kung Fu e la Muay Thai che sono le due attività principali del Tempio anche l'MMA, il Brazilian Jiu Jitsu e il Pugilato. Vado a ricordare un po' le scuole che fanno parte del nostro circuito la Ciclone Academy del maestro Franceschini Simone campione del mondo Brazilian Jiu Jitsu, cinturanea Brazilian Jiu Jitsu e il Pugilato per mano di un ex campione europeo, il Pugilato del mondo Michele Orlando che insegna Pugilato nella nostra Accademia. Niente, ringrazio per questa intervista e spero che le arti marziali sia nel territorio romano che nel territorio italiano prendano sempre più piede. Grazie a te Gianluca Colonnese e speriamo di venire presto a Roma proprio nella tua Accademia per far di bene. Ti ringraziamo e andiamo a goderci i Rimini Wellness. Ok, grazie a te.